Per gli antichi questo era il mare delle sirene Cullate dal ritmo infinito dell'onda lanciavano il loro irresistibile richiamo ai naviganti Inducendoli a dimenticare la loro meta e a perdersi nella magica bellezza di questi luoghi E l'incantesimo si perpetua Da sempre la bellezza dell'isola azzurra affascina il mondo Frequentata dal Jet Set internazionale ma anche dalla gente comune Di fronte alla penisola sorrentina a sulle tre miglia marine da punta campanella L'isola di Capri è uno dei luoghi di maggiore attrattiva della provincia di Napoli e dell'intera penisola Mondana e internazionale Capri è un'isola che non si dimentica Fu amata da tanti a incominciare dagli imperatori romani Cesare Augusto e Tiberio Che lì trascorse gli ultimi dieci anni della sua vita E l'arricchì di imponenti ville le cui vestigia nei luoghi più belli e impervi dell'isola Testimoniano come a quell'epoca la centralità dell'impero romano si era trasferita da Roma a Capri Cesare Augusto visitando Capri nel 29 avanti Cristo Fu talmente colpito dalle sue bellezze che l'acquistò dalla città di Napoli In cambio della vicina Ischia più vasta e più ricca Tiberio il suo successore vi dimorò dal 27 al 37 dopo Cristo Costruendovi secondo la tradizione ben 12 ville Ciascuna dedicata a una divinità dell'Olimpo E Villa Iovis, la più grandiosa di esse Situata in posizione panoramica e dominante sullo sperone roccioso di Monte Tiberio I cui lati a picco sul mare guardano il golfo di Napoli e punta Campanella Divenne la sua dimora abituale e da lì governò l'impero romano Altri imperatori soggiornarono a Capri dopo Tiberio E fino al IV secolo d.C. fu frequentata e abitata dai nobili romani L'isola, passata più tardi di nuovo al Ducato di Napoli Nel VI e VII secolo subì le incursioni dei pirati saraceni E in quelli successivi le dominazioni dei longobardi, dei normanni, degli angioini, degli aragonesi E infine degli spagnoli Nel Settecento e Ottocento In contemporanea con il grande rigoglio politico e artistico della città di Napoli Capri ne seguì ancora una volta le sorti Ne sono testimonianza le stupende architetture di chiese e conventi Nei due centri urbani dell'isola A partire dalla seconda metà del Settecento La perla del Mediterraneo fu prescelta come soggiorno dai Borbone Per la caccia alle quaglie e come meta di viaggio L'etimologia del nome Capri è greca Da capros, cinghiale Il rinvenimento di molti resti fossili di questo animale Confermano che essa fu l'isola dei cinghiali E non delle capre Come farebbe intendere un'improbabile derivazione latina del nome L'isola, divisa nei due comuni di Capri e Anacapri Con i caratteristici borghi di Marina Grande dove assede il porto E di Marina Piccola Presenta un territorio prevalentemente montuoso a picco sul mare Ad est il Monte di Berio E ad ovest il Monte Solaro Uniti da una sella verdeggiante Con coltivazioni di agrumi e vigneti Che si arrampicano sui pendii Incorniciate da una natura rigogliosa E ricca di ben 850 specie arboree mediterranee Le coste, dirupate e scoscese Sono costellate di fantastiche grotte Se ne contano ben 65 Tra cui la più famosa per la particolare colorazione Che assume al suo interno l'acqua del mare È senza dubbio la grotta azzurra Il mare tutto intorno all'isola Assume per la varietà dei fondali Le colorazioni più diverse Dal verde smeraldo più intenso Al blu cobalto del lapislazzulo Ma Capri è celebre soprattutto per i suoi faraglioni Un incontestabile marchio internazionale Che caratterizza l'isola Il primo, di nome e stella È alto 109 metri Ed è unito alla costa Il secondo, il faraglione di mezzo Alto 81 metri presenta una galleria naturale Che lo attraversa per intero di circa 60 metri E poi c'è un terzo faraglione Lo scopolo Alto 104 metri Abitato dalla famosa lucertola azzurra Oggi rarità zoologica protetta Un quarto faraglione isolato di fronte al porto di Tragara È denominato il monacone Dal bove marino o foca monaca Che vi ha dimorato fino al secolo scorso Favorita da un clima dolcissimo In ogni stagione dell'anno Dalle incredibili bellezze naturali E da un'ottima ricettività alberghiera Capri ha nel turismo La sua principale attività economica A cui si affiancano L'agricoltura La pesca E l'artigianato La pesca Che Ischia possedesse innumerevoli attrattive L'avevano già scoperto indubbiamente gli antichi Lo testimoniano i ritrovamenti dei primi insediamenti greci E con maggiore evidenza Le rovine del castello Aragonese Una vera e propria città Sorta dove già Gerone Siracusano Aveva edificato la sua formidabile rocca Verdi colline avvistarono i primi marinai greci Che sbarcarono sull'isola Nella baia di San Montano Otto secoli prima di Cristo Venivano da lontano Dall'isola di Eubea Ma quella terra Parve loro subito familiare Sul promontorio di Montevico E nella pianura sottostante I greci costruirono la loro nuova città Pitecusa Che divenne punto nevralgico Dei commerci tra la Grecia E le popolazioni italiche Fu quello il primo insediamento greco Nel Mediterraneo occidentale L'inizio della Magna Grecia E proprio alla Magna Grecia È dedicato il museo archeologico Di Villa Arvusto All'Accoameno Lì sono ospitati i preziosi reperti Rinvenuti dall'archeologo Giorgio Buechner In trent'anni di scavi Nella necropoli di San Montano E in primo piano La cosiddetta Coppa di Nestore Su cui è inciso Il più antico testo scritto Rinvenuto in Occidente La zona di Laccoameno Rimase il maggiore centro abitato Dell'isola fino al Medioevo Quando le invasioni barbariche Convinsero la popolazione A rifugiarsi sull'isolotto Su cui doveva poi sorgere il castello Lì si sviluppò la città Mentre sull'isola grande Come era chiamata Non erano che piccoli villaggi Dove la popolazione Viveva tra il pericolo Delle invasioni straniere E la paura per terremoti ed eruzioni Allora piuttosto frequenti Intanto l'isola subiva Le incursioni dei pirati saraceni E lungo le coste Sorsero imponenti torri di difesa Quello di Forio Era il versante più esposto E la popolazione Vi costruì ben 14 torri Con il tipico tufo verde Dell'epomeo Tra queste Il famoso torrione Simbolo della cittadina Che ospita oggi Un museo dedicato a un artista isolano Lo spettacolo delle coste ischitane È maestoso Specie lungo il versante meridionale Dove imponenti pareti rocciose Si ergono a picco sul mare Le complesse vicende geologiche dell'isola Sono tutte incise In quei fitti strati di roccia vulcanica Dalle più varie sfumature di colore Testimonianze delle eruzioni Che nei millenni Modellarono la terra ischitana La costa varia di continuo Ai severi promontori Coperti di vegetazione Seguono magnifiche insenature In cui il mare assume colorazioni stupefacenti Ischia sfoggia su quel versante Due dei suoi più preziosi gioielli Sant'Angelo Il caratteristico paesino presepe Proteso sul mare Che è ancora con le sue piccole case Aggrappate alla roccia Dai vivaci colori pastello Con la sua popolazione semplice e attiva Un'autentica oasi di pace incontaminata Subito dopo il villaggio Ecco presentarsi la spiaggia dei Maronti La più grande dell'isola Più volte bandiera blu dell'Unione Europea Il Lido dei Maronti È rinomato tra l'altro Per l'alta temperatura della sua sabbia Utilizzata anche a scopo terapeutico Alteri promontori e insenature Disegnano il profilo dell'isola Fino alla spiaggia di Carta Romana Frequentata fin da tempi antichissimi Qui ci si imbatte in uno degli scenari Più affascinanti dell'isola La Baia di Sant'Anna Con i suoi enormi scogli E l'isolotto del Castello Aragonese Che, possente, emerge dal mare All'acqua a meno Dopo il celebre fungo Il caratteristico scoglio di tufo verde Simbolo della ridente cittadina Tra i promontori di Montevico e Zaro Si apre la magnifica Baia di San Montano Dove sbarcarono i primi coloni greci dell'isola Panorami di rara bellezza Contradistinguono anche il litorale di Forio Le ampie spiagge di San Francesco Di Cava dell'isola E di Citara Sono amatissime da quanti scelgono l'isola verde Per un soggiorno all'insegna del mare e del sole Miniere d'oro Così il medico Giulio Iasolino Aveva ribattezzato le sorgenti termali dell'isola di Ischia In un celebre volume del 1588 Erano stati per primi i romani Grandi fruitori delle terme Ad accorgersi di quella particolare ricchezza dell'isola Conseguenza della sua origine vulcanica Scende l'acqua piovana sulla terra di Ischia E scorrendo vicino alle fumarole Si riscalda Rubando alle rocce i minerali che l'arricchiscono Donandole la capacità di guarire Notevole il livello dei servizi Offerti alla clientela Nelle strutture ischitane Le cure tradizionali si accompagnano ormai a massaggi Fisioterapia Ginnastica correttiva e riabilitativa Sauna Secondo una tendenza sempre più accentuata Le terme sono diventate luoghi di recupero Del benessere psicofisico dell'individuo L'isola di Ischia è l'unico luogo al mondo In cui la natura e l'impegno dell'uomo Hanno saputo creare quelle meraviglie Che sono i parchi termali Nei luoghi più panoramici dell'isola Offrono ai loro visitatori Piscine termali di diverse gradazioni Incastonate in lussureggianti giardini Spiagge private Reparti per le cure termali tradizionali E servizi di alto livello Un'offerta di svago e riflessione completa Che conferma Ischia Un'isola per tutti i gusti E per tutte le stagioni Non solo dell'anno Ma anche della vita Considerata da sempre la cenerentola Delle isole partenopee Procida sembra fare di tutto Per restare al di fuori Del caotico e internazionale Flusso turistico Che ha reso celebri nel mondo Le sue consorelle maggiori E in effetti Da sempre L'isola vive un'esistenza discreta Quasi ipodica Come insofferente A mostrare le sue bellezze naturali Cheppure sono tante E davvero affascinanti Priva della principale ricchezza naturale di Ischia L'acqua a termo minerale L'isola ha dovuto sempre fare i conti Con la sopravvivenza Penalizzata per secoli Dalla minacciosa presenza Del carcere di massima sicurezza Dal significativo nome di Terra Murata Ha riversato le sue forze In campi molto diversi dal turismo La pesca E la marineria E sfruttando l'anima marinara Che da sempre ha reso i procidani Grandi uomini di mare Sono partiti da qui I più grandi capitani di lungo corso Che abbia mai avuto l'Italia Gente di mare di primordine Che ha solcato i mari di tutto il mondo La crisi della marineria Però comincia a farsi sentire E l'isola Pur restì a mettersi in mostra Comincia da qualche anno A riscoprire se stessa A rifarsi il look Ad accettare sempre più L'idea del turista Come un bene inevitabile Per questo oggi Seppure in una ricettività Decisamente più familiare Delle offerte capresi e ischitane Molti vacanzieri di buon palato Hanno cominciato a scoprire Il fascino della chiaiolella Di vivara Della corricella Ma pure quello di una vita Semplice e sana Dove il rumore principale È quello della risacca E l'odore che regna su tutto È quello della salsedine Questa è Procida Un regno di mare Semplice e orgoglioso Disposto a concedersi Solo a chi sappia Veramente amarla Senza condizioni Grazie a tutti Grazie a tutti.